Le fiamme lambiscono ancora in Spagna, la regione di Odena, non lontano da Barcellona. L'incendio, divampato questa domenica, ha già distrutto mille ettari di vegetazione. 400 persone sono state evacuate. Il perimetro del Rogo non è cresciuto. I primi elicotteri sono intervenuti 5 ore dopo l'inizio dell'incendio. A peggiorare la situazione, uno sciopero in Spagna del settore dei Vigili del Fuoco, che protestano da lunedì contro i salari e le condizioni di lavoro. Preoccupazioni anche in Francia per l'incendio scoppiato nel Dipartimento della regione Aquitania. 500 persone sono state evacuate in alcuni comuni a una ventina di chilometri da Bordeaux. Secondo le ultime informazioni, fino a ora sono stati distrutti circa 580 ettari di foresta. Più di 600 Vigili del Fuoco sono impegnati nel tentativo di domare le fiamme. Le cause dell'incendio restano oscure. Non si esclude la pista criminale. Grazie mille. Grazie mille.